Presidente Giangelo Giacalone, una partita decisiva per la SC Mazzarese, una partita davvero integrante, davvero particolare. Finalmente la SC Mazzarese ancora una volta dimostra la sua grandezza e vince questa partita. Sì, non è una partita decisiva perché alla fine della stagione mancano altre due finali. Abbiamo sempre detto che c'erano tutte finali da affrontare. Oggi sento la necessità di fare i complimenti anche a Lenna perché è stata una partita tiratissima dove le due squadre volevano vincere e l'episodio condizionava il risultato. L'episodio favorevole l'abbiamo avuto noi, credo che i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano. Venivamo da un tour de force in quattro partite, Lenna era stata vittima del Covid quindi giocava dopo un mese, probabilmente era più riposata. Malgrado ciò l'orgoglio, l'attaccamento per i colori, il rispetto verso gli sponsor, il rispetto verso questa dirigenza che a queste ragazze non ha fatto mancare niente, il rispetto verso il tecnico l'ha fatta da padrona e uscire tra gli applausi dall'innovacara credo che sia il più bel risultato a prescindere se andremo a fare playoff o se non andremo a farli. Dare un senso a questo campionato dopo aver raggiunto la salvezza e quindi essere in gioco per poter partecipare ai playoff ritengo che sia il miracolo del miracolo per una neopromossa che si è affacciata a questo campionato appena quest'anno e che è stata costruita il 18 agosto. Ultime due giornate in vista della fine del campionato, le prospettive sicuramente sono anche quelle di vincere per andare a playoff, no? Sì, intanto domani siamo concentrati sulla nostra Under 18 che sta primeggiando nel campionato, quindi questa settimana di sospensione per due settimane dei campionati per fare recuperare gli altri incontri dell'eccellenza che ci diranno bene qual è la classifica. Credo che sia giusto concentrarci su questa esperienza straordinaria dei nostri ragazzi, quasi tutti i mazzaresi, sicuramente del comprensorio trapanese, che si candidano autorevolmente e con grande responsabilità a vincere il campionato e passare alla fase regionale. Quindi permettetemi di dire che da presidente e interprete della sintesi di tanti dirigenti, da Silaco, Lentini e tanti altri, Armato, Nino Sammaritano e tanti altri, orgogliosamente a nome di tutti ritengo che abbiamo vissuto e stiamo avendo una stagione straordinaria e il patos di oggi per primeggiare su questa partita sicuramente va condiviso con tutti loro, con il pubblico che è stato straordinario, con il mister e con coloro che ci hanno voluto bene, che ci hanno criticato quando per esempio siamo usciti con tutta una serie di infortuni, diciamo quasi ridimensionati dalla trasferta di Canicattì, perché avevamo 4-5 assenze pesanti, anzi con l'occasione avevo fatto gli auguri già mercoledì perché virtualmente il Canicattì aveva vinto il campionato, oggi si sancisce che è la squadra più forte del torneo, faccio anche gli auguri al Canicattì per un buon campionato di Serie D. Ecco lo sport come lo interpretiamo noi è questo, in campo magari si lotta, in campo lo stress, l'attenzione, la passione ci coinvolge, però poi alla fine sappiamo con la nostra cordialità e il nostro rispetto per il calcio e per lo sport esprimere concetti di stima verso l'Enna e grandi sentimenti di riconoscimento al Canicattì che ha virtualmente ammazzato il campionato.